Siamo con mister Paolo Antonio, l'allenatore del Bar Crystal che oggi vince 2-1 contro l'Unicum in una partita sofferta ma con le unghie e con i denti il Bar Crystal ha ottenuto questa importantissima vittoria. Che partita è stata dal suo punto di vista? Partita tosta, partita comunque che ci ha fatto tornare a destra della squadra che stiamo. Abbiamo iniziato questo campionato con tre partiti a propria vita, con Marccati, Cero, Ciro, Comodi, sono squadre molto più pronte di noi. Oggi inizia il campionato del Bar Crystal, sicuramente non puntiamo al vertice perché questa è una squadra giovane, una squadra che comunque è salita alla Serie B, però sono convinto che anche quest'anno riusciamo a divertirci e a fare bene questa Serie B. Dunque il Bar Crystal deve ripartire da questa vittoria e continuare questa strada? Sì, oggi si è visto il gruppo, si è visto comunque una squadra con gamma, una squadra che c'è anche due, una squadra che comunque... quella che poi conosco io, la pizza che conosco io, ripeto. Iniziamo, iniziamo da oggi, iniziamo a fare punti e poi a fine campionato, ripeto, cerchiamo di variare nei primi 5 e poi di fare i 3-8, sicuramente. Anche dietro, difensivamente, abbiamo visto una difesa molto compatta, i giocatori hanno rincorso ogni pallone, sono stati veramente tutti bravi oggi. Tosta, ci hanno creduto, ci hanno creduto tutti quanti, difesa molto solida, comunque uniti, ripeto, ho visto un gran bel gruppo che ci fa sperare sicuramente. Che voto gli diamo a questo Bar Crystal oggi? Sicuramente oggi in 8. Grazie mister. Grazie a voi.